La nostra fondazione ha aderito con particolare convinzione a questo progetto per tanti motivi. Primo perché noi abbiamo un piccolo capitolo su naturalmente scuola, università, che abbiamo l'università a Savigliano e ricerca e quindi possiamo attivare una parte di quel capitolo per una finalità che ci sembra molto importante. Siamo in una zona agricola e fruttifera. Il tema della frutta ha comparso improvvisamente negli anni 60-70 in queste zone che ha sostituito il cereale classico. Ha portato molta ricchezza, molto benessere e anche dei problemi perché ha subito poi progressivamente nel tempo la concerenza con mercati internazionali che hanno richiesto l'affinamento da parte dei produttori e soprattutto dei conservatori di tecniche del passato che non erano più aderenti alle esigenze del mercato e di un consumatore che nel frattempo si era fatto molto più esigente. Da questo punto di vista ci pare che la ricerca di agrivo sui tre anni sia centrata e quindi siamo entrati in un pulco con le altre fondazioni per sostenerla, confidando che effettivamente possono esserci dei risultati che convincano il mondo degli agricoltori e soprattutto dei frutticoltori ad avvicinarsi alle spinte e risultati di ricerca che Agrion potrà fare.